Ciao! Ciao ragazze! Bentornati sul canale, video spacchettamento Amazon Oggi uno solo Però questo pacchetto è quello di cui vi parlavo ieri, cioè domenica Se avete visto magari il video precedente Dove dicevo che aspettavo una cosa sbrilluccicosa Ebbene sì! È arrivato! Quindi apriamolo senza... Non riesco a perderci in chiacchiere Vediamo un po' Allora di questo qui vi metterò anche il link di quello Italia Perché questo è un venditore che è presente anche appunto su Amazon It Ed è Pauline e Morgan Lo conoscono in parecchie credo Collabora molto spesso con le ragazze youtuber Comunque con le blogger Quindi andateci a farci un giretto Apriamo la scatolina Sempre ben incartata Confezione regalo Secondo me già può essere un bel regalo Siamo pronte che apriamo? Ta-da! Allora c'è Innanzitutto troviamo nella sua confezione Il certificato Questo qua E poi il braccialetto In questione perché è un braccialetto È all'interno di una bustina Questo è quello che vi dicevo Che era tutto luccicoso Vedete? Boh, non lo so se si vede Poi, cosa più carina C'è scritto love sulla chiusura Lo vedete? Scritto love Niente, è molto bello È ben fatto Allora la nota del venditore Dice che sono dei zirconia Ma non lo so Comunque io mi sono trovata molto bene Con tutti i loro prodotti Ecco qui Indossato È molto carino Oddio Magari sul mio braccio grande Non sta bene Però Rimane abbastanza comunque morbido E questo è il bracciale Con i pacchettamenti di oggi Con i pacchettamenti Con i pacchetti di oggi Che poi uno abbiamo terminato Infatti è un video che dura pochissimo Per la gioia di forse di molte Comunque vi ricordo il mio giveaway Presenta ancora nel canale Action camera e un set di pennelli da make up In regalo Lasciate un like a questo video Se vi è piaciuto Vi auguro una buona serata E al prossimo video spacchettamento Ciao ragazze